da senior sempre lì, ma è un palazzetto stupendo gamba Angie gamba Angie, entriamo in salto avanti che è un'entrata di valore D quindi, insomma ottima, lavoro avanti lei ha questa serie ribaltata salto avanti, bravissima bello come si è messa in posizione per il giro un e mezzo alla trave è possibile fare i mezzi quindi, un e mezzo, due e mezzo tre e mezzo, bla bla bla, corpo libero no corpo libero solo uno in uno uno, due, tre prepara la serie acro dietro flick e salto teso, smizzato, più salto teso smizzato, bravissima brava Angie Angie Anjambe cambio e Anjambe sul posto con mezzo giro ribaltata senza mani collegato a Anjambe sul posto collegato al divaricato frontale se proprio bisogna essere pignoli questo frontale non proprio proprio a centottanta però, fa niente fa niente adesso poi, per legare quelle importanti bisogna essere perfetti la ricerca della ginnastica è questa la ricerca della perfezione è rondata a doppio carpio bravissima veramente una garona l'anima